Benvenuti nella cucina italiana di Orogel dove si studiano e realizzano piatti semplici, gustosi e naturali della grande tradizione italiana che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole. Oggi gli chef Orogel preparano una ricetta gustosa e raffinata che soddisferà sicuramente i vostri ospiti, il risotto del pescatore. Gli ingredienti per 4 persone sono 60 grammi di cipolla, 30 grammi di aglio, 100 grammi di seppie, 80 grammi di polpi, 40 grammi di vongole, un bicchiere di vino bianco, 280 grammi di riso vialone nano, 40 grammi di passata di pomodoro, 20 grammi di pasta d'acciughe, 20 grammi di prezzemolo, un dado di pesce, mezzo litro di brodo di vongole, 50 millilitri di olio extravergine d'oliva, un litro di acqua, sale e pepe bianco quanto basta. Siete pronti? Allora andiamo a preparare il nostro piatto. In un tegame con l'olio fate soffriggere la cipolla e l'aglio per 10 minuti a fuoco basso. Aggiungete tutto il pesce tritato e fate rosolare per 10 minuti. Dopodiché aggiungete il riso e fatelo tostare. Fumate con il vino bianco e fatelo evaporare del tutto. Continuate la cottura del risotto aggiungendo il brodo di vongole, il brodo di pesce, la passata di pomodoro e la pasta d'acciughe. A cottura ultimata aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva, il prezzemolo tritato ed aggiustate di sapore con il sale e il pepe. Visto che bel primo, delicato e ricco di sapore. Per preparare questa ricetta occorrono 60 minuti. Sono troppi? Non avete tempo? Orogel vi consiglia risotto del pescatore, in questa pratica confezione da 550 grammi. Si versa in padella con un filo d'olio ed è pronto in soli 6 minuti. È realizzato con ingredienti di alta qualità come gamberi, calamari, seppie, polpi e vongole ed è contraddistinto dalla certificazione di prodotto. Orogel, più gusto al benessere.